Pichi! Così ve lo fai? Sti! No! Sop! 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 Io vado lì! Se tu mi anticipi la cosa non lascia! Sop! 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 Eh, aspettavo per tornarsi a piedi! Però faccio una volta in parte! Sì! Uno! Tio! Oh! Non mi piace fare, c'è un zoom malignante! Grazie! Tio, sei impalla di computer con di un monitor! No! Sì, sì, sì. Allora! Allora! Lo sai che hai fatto? Io gli ho fatto 3, 2, 3, pimp al gioco, film porno e credi! Cazzo non mi frego! Allora! 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 Allora!